Allora, quello era un periodo, devo dire, che appunto Nirvana viene due anni dopo il Mediterraneo, ma un po' di più, tre anni dopo. Io mi ricordo che all'uscita del Mediterraneo decisi di non aspettare l'uscita del film perché avevo troppa paura di come veniva preso dal pubblico e quindi con la mia compagna abbiamo deciso di andare in India per due o tre mesi. Mi è partito tutta una serie di cose, studiavo le filosofie orientali già da un po' di tempo e ho scoperto alcune cose. Gli hindu, gli hinduisti, ma anche buddhisti in genere, io non sono buddista, non sono praticante, per un po' l'arco sempre detto, non so perché. La realtà che noi gli udiamo la chiamano maya, cioè illusione. Pensa come questa cosa si sposa bene con l'irvana. L'avatar, che per loro è il tuo dolce, l'anima, eccetera, cioè è esattamente quello che... si usa la stessa parola anche nella rete, non solo, ma i primi computer addirittura avevano, quando c'era un errore, ti arrivava un numero e poi ho scritto sotto guru meditation, cioè lasciare a un tecnico la risoluzione del quale, però guru meditation. E questa cosa mi ha mosso un po' tutto questo discorso sulla spiritualità e sul fatto che io non lo so se ci... io non lo so se esiste la rincarnazione. Guarda, per noi sembra una cosa bella, che bello, mi faccio un altro giro, no? No, non è esattamente così. Per loro il problema è raggiungere il nirvana, cioè, no? Per favore, no? Per favore, no? La vita è difficile e voglio arrivare a un momento di pace, quindi è proprio l'imposto del nostro... ripeto, non so se esiste la rincarnazione, probabilmente la facciamo nella nostra vita, tutti i giorni. Quante volte cambiamo, no? Nella vita di ognuno di noi. Quante persone ci sono se vi leggete Siddhartha, di Ermanesse, è molto chiaro in questo senso, tu attraverso questa vita nasci e muori tante volte. E' importante che avere sempre un po' la forza, un pensiero, che possa essere mistico, religioso, politico, sociale, che ti tenga vivo, che ti permetta di rinascere quando muori. Vedi come è curioso, mi viene in mente un virus, no? Aiuto! Forse ne siamo usciti, non sappiamo, ma potrebbero esserci ne altri. Guarda come una cosa negativa può far nascere una coscienza diversa, no? Il virus elettronico del gioco fa nascere, nel personaggio di solo, dato da Diego, fa nascere la coscienza del fatto che lui è dentro solo in un gioco. Quindi, io credo che non ci siano le cose brutte, le cose belle, come lo yin e lo yank, tanto per tornare alle filosofie. E la vita è fatta di questo, sostanzialmente, no? Del dolore e della gioia, insieme. La gioia, come si diceva prima, della rinascita. Hai analizzato perfettamente la cosa. La contaminazione è fondamentale. Scusatemi, apro su questa parola un brevissimo. La contaminazione, detta così, ci fanno in mente mascherine, progeni, eccetera. Guardiamola in un'altra maniera, chiamiamola fusion, come dicono le cani. Ecco, questa invece ci ha sempre salvato la vita. Sto parlando anche, in questo senso, della paura che abbiamo da sentire del nuovo, del diverso, dell'immagrazione, di quelli che arrivano, che sono diversi da noi. Quindi, guardate che questa è un'opportunità, non è un problema.